Buonasera a tutti, sono Patrizia Battagliotti, ho 52 anni, sono di San Maurizio Canavese in provincia di Torino e faccio parte del gruppo Cirievali di Lanzo. Ho un diploma artistico, ho lavorato per vent'anni in un'azienda tessile come stilista, dopodiché ho lavorato in un outlet di abbigliamento sino alla sua chiusura e oggi sono disoccupata. Ho fatto la volontaria in un'associazione che si occupa di disabilità, sono vicino al movimento dal 2009 e nel 2011 ho partecipato alle amministrative nel comune di Cirie e successivamente nel 2013 alle politiche alla Camera dei Deputati. Insieme al mio gruppo ho partecipato alla battaglia contro l'installazione di un mega impianto fotovoltaico a terra nel parco naturale della Vauda che ci ha visto vicino ai cittadini e alle associazioni e siamo riusciti a scongiurarlo. Abbiamo raccolto firme per scongiurare la dipartita dell'emodinamica da Cirie e siamo vicino a delle associazioni locali e stiamo sostenendo con altre raccolte firme. Quando c'è stato il terremoto in Emilia Romagna abbiamo raccolto beni e indumenti di prima necessità e li abbiamo mandati in loco. Stiamo sostenendo anche il comitato No Tunnel che contro la realizzazione del tunnel sottocorso Grosseto e stiamo sostenendo la formazione di liste per le amministrative locali 2014. Non ho mai fatto politica prima in quanto non mi sono mai sentita vicino a nessuna ideologia. Credo fortemente invece nell'ideologia del movimento in quanto è assolutamente la mia. Amo lavorare in team ma detesto i protagonismi. Sogno una città a misura d'uomo con piste ciclabili, parchi senza barriere architettoniche. Vorrei potermi occupare di lavoro finalizzato all'ambiente, all'agricoltura, all'arte e al turismo tramite l'innovazione e la formazione nella riscoperta delle eccellenze che la nostra regione offre contribuendo a colmare quel vuoto oggi riempito dal disagio sociale e culturale. Mi piacerebbe anche potermi occupare di politiche sociali e assistenza alle persone con disabilità. Grazie.